Nella prima metà del V secolo d.C. le ripetute invasioni e la perdita di territori occupati stabilmente dai barbari segnarono la dissoluzione dell'impero romano d'occidente. La Spagna era stata occupata da Visigoti e Sbevi, il Nordafrica era stato conquistato dai vandali e in Gallia si erano stanziati i franchi. L'impero romano d'occidente era ormai ridotto alla sola Italia. Mancava un'autorità centrale in grado di arrestarne la progressiva disgregazione. Dal 455 al 476 al trono dell'impero d'occidente si succedettero ben nove imperatori, sostanzialmente privi di autentico potere. Essi infatti erano imposti o manovrati o dall'imperatore della parte orientale oppure dai capi delle truppe presenti nella penisola, che erano spesso di origine barbarica e comandavano eserciti composti prevalentemente da stranieri di stirpe germanica. Fu proprio uno di questi generali barbari a sancire simbolicamente la fine dell'impero romano d'occidente. Nel 476 d.C. Odoacre, un ufficiale delle milizie barbariche al servizio dell'impero, depose l'ultimo imperatore, Romolo Augustolo. Invece di nominare un successore, come avevano fatto altri generali nei decenni precedenti, chiese di poter governare la penisola italica come rappresentante imperiale con il titolo di patrizio romano, permesso che gli fu accordato dall'imperatore d'Oriente. Odoacre governò sugli italici con il titolo onorifico di patrizio, con quello di re sui barbari. Egli restò al potere per 13 anni in relativa tranquillità, facendo avere alle truppe germaniche che lo avevano sostenuto il trattamento di federati o alleati che si rivendicavano. Odoacre cercò di creare, non senza difficoltà, un rapporto di equilibrio tra le componenti latina e germanica della popolazione. Una politica non troppo diversa da quella messa in atto dallo strogoto Teodorico, che nel 489 avrebbe spodestato odoacre. And that's all, folks.